Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda la rissa avvenuta nel post partita del turno di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter disputati all'Allianz Stadium di Torino. Naturalmente chi di voi si poteva aspettare qualcosa di diverso da quello che adesso vi vado a leggere. Prima di partire con la lettura è talmente vergognosa la decisione che dovete condividere prima che io ve lo vada a leggere. Prima se siete juventini e state lottando come me per far girare le notizie e lo schifo che stanno facendo nei confronti della Juventus dovete assolutamente condividere prima della lettura. Perché rissa Juventus-Inter quadrato squalificato per tre giornate, un turno di stop per i provocatori Andanovic e Romero-Lukako. Ma non basta perché c'è anche un'altra decisione che va ancora a caricare di più la società Juventus. Ve ne vado a parlare tra brevissimo, ve la vado a leggere subito. Prima però un doveroso ringraziamento a tutti voi per gli auguri che mi sono arrivati, siete stati centinaia a scrivere, non vi posso ringraziare uno per uno perché ci vorrebbe un video di mezz'ora. Quindi vi ringrazio tutti in questo video, la bimba è a casa, stiamo tutti bene, è finito, ricomincia un altro percorso di poppate e pannolini. Detto questo veramente grazie di cuore a tutti voi, a tutti quelli che mi sono stati vicini in questo momento un pochettino, diciamo, complicato della situazione. Detto questo, se non siete ancora iscritti al canale, prima di iscrivervi al canale vi invito a guardare qualche video, rendervi conto dei contenuti che porto. Se vi piacciono, vi iscrivete e attivate anche la campanellina perché è molto importante per quanto riguarda i futuri video e le live che faremo sul canale. Detto questo, ricordatevi, la condivisione è cosa molto più importante, anche il vostro commento perché mi diverto a leggervi, soprattutto si è creata una community enorme, sempre più grande tra di voi. Vi iscrivete e commentate con giudizio, vi ringrazio per questo. Detto questo, andiamo a leggere la notizia perché ha dell'assurdo. Mi sono preso due minutini per prepararvi un pochettino a quello che hanno deciso i giudici, anzi il giudice sportivo. Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, dice la Repubblica, dopo la rissa di Juventus Inter. Il caso Lukaku del calciatore accusa di razzismo lo Juventus Stadium. Il giudice sportivo ha deciso di squalificare per tre giornate Juan Quadrato. Un turno di stop per Andanovic e la tribuna, attenzione perché questo qui è quello che va ancora di più a rimarcare il fatto che si fa la lotta al razzismo, però dipende da che bandiera viene fatto. Una giornata di squalifica per la tribuna sud bianconera. Il settore dietro la porta in cui il belga ha segnato, chiusa per una giornata, e arriva anche la conferma che il centro avanti di Inzaghi, espulso dall'arbitro massa per doppia munizione, salterà la partita di ritorno. Perché c'erano dei dubbi, giustamente, no? Ormai abbiamo visto, è espulso Murigno prima della partita contro la Juventus, Roma-Juventus salta, poi la squalifica, la scontiamo dopo. In questo caso si sono meravigliati perché come mai con Lukaku non l'hanno fatto? Eppure avrebbero potuto farlo. Ma la notizia va avanti e avanti. Ragazzi, è assurdo la decisione perché abbiamo visto poco tempo fa che cosa è successo proprio tra, nei confronti dei giocatori della Juventus, i burraziali fatti a Kinn, ma naturalmente anche il negro di merda detto a Kinn. Ma chi se ne frega quando il negro gioca nella Juventus si può dire negro, se poi così c'è uno zingaro di merda basta che giochi nella Juventus e non è razzismo. E questo è il bello, ragazzi, questo è il bello dei media e questo è il bello dello sport, è il bello dei tuffosi. Se tu indossi una maglia a strisce bianco e nero sei un negro di merda, se tu invece la indossi a strisce nero e azzurre, attenzione perché il razzismo lo perseguitiamo, giustamente direi io, giustamente. Perché sono cose assurde che nello sport non possono esistere, però è assurdo che se ne parli in questa maniera, ditemi nei commenti che cosa ne pensate, andiamo, continuiamo. La tribuna sud è chiusa per un turno e ce lo spiegano pure, hanno pure il coraggio di venirci a spiegare perché. Ci chiudono la tribuna sud per un turno quando a Napoli, due giorni fa, tre giorni fa, si sono picchiati come gli animali. Lazio, ancora adesso, si aspetta che gli diano una giornata di squalifica allo stadio, ma... All'Inter è andata l'ultima partita che abbiamo giocato Juventus-Inter, se ne sono sentiti tutti i colori. Rissa anche lì, ricordiamo, Paredes salta proprio, viene squalificato per Rissa. In questo caso, invece, giochiamo allo Juventus Stadium e non vogliamo parlarne. Il giudice sportivo di Serie A ha deliberato di sanzionare la società Juventus con l'obbligo di disputare una gara col settore denominato Tribuna Sud. Primo anello, privo di spettatori. La decisione arriva considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, i sostenitori della società Juventus occupanti il primo anello del settore denominato Tribuna Sud levavano al 35esimo e al 49esimo del secondo tempo, beceri insutti, cori e gride di discriminazione razziale nei confronti del cacciatore della società internazionale Intervar, Lukaku Romero. Considerato attresì che nel suddetto rapporto i collaboratori della Procura Federale dichiaravano che gravi manifestazioni di discriminazione razziale recepiti da tutti e tre i rappresentanti della Procura Federale dislocati nelle varie parti dell'impianto quindi praticamente erano messi uno qua, uno là, uno là e sentivano tutti al 35esimo e al 49esimo, preciso, tutti con l'orologio hanno sentito questi insulti razziali. Fino ad ora non si erano mai sentiti negli stadi italiani insulti razziali nei confronti dei giocatori che vestivano un'altra maglia soltanto adesso sono riusciti a sentirli ma andiamo avanti perché è assurdo quello che dicono ma lo dobbiamo leggere provenivano dalla maggior parte, dalla maggioranza dei 5034 occupanti il predetto settore primo anello del settore denominato Tribuna Sud ritenuto che in ragione della gravità delle dimensioni e delle percezioni reali del fenomeno nonché della ripetività del medesimo i predetti comportamenti consumati rilevavano disciplinalmente una norma, una violazione della norma e ci dicono pure la norma la norma dell'articolo 28 NN 1 e 4 CGS ve la leggo ma non ci capisco, una mazza ve lo dico spiega, ce lo vuole spiegare il giudice sportivo in merito della gara Juventus-Inter valida per la semifinale di andata di Coppa Italia quindi non so se è stato chiaro perché ne scrivono di cagate per non farti capire un cazzo però alla fine al 35esimo del secondo tempo e al 49esimo del secondo tempo praticamente i tre procuratori federali che erano lì a controllare i tifosi a controllare quello che succedesse hanno sentito proprio in quel momento lì tutti e tre proveniente da quei 5034 perché li hanno contati tutti uno per uno da quei 5034 tifosi hanno sentito questi cori si sono fatti un occhio hanno detto sì la maggior parte sono quelli che fanno i cori razzisti chiudiamo la curva della Juventus è quando succede contro di noi ma che cosa fate con... cioè dovete... scusate ma mi sta venendo lo sclero dovete condividere la notizia perché sono dei porci sono dei vigliacchi ed è assurdo quello che stanno facendo assolutamente assolutamente da condannare ogni tipo di comportamento razziale di razzismo ogni tipo di insulto razziale va condannato ma questo non lo devo dire io lo sapete anche voi questo qua è populismo queste sono parole solo per attirare le persone stupide perché è sottinteso è normale è normale che non si devono fare insulti razziali ti stavano sul cazzo insultano in un'altra maniera se proprio devi insultare ma non si fanno anche perché soprattutto ormai tutte le squadre hanno giocatori di colori quindi è stupido io che tipo la Juventus insulto Lukaku perché è nero quando in campo ne ho altri due o tre capite? e poi magari non voglio che me li toccano questa è stupidità ci sono ci sono sempre state ma quante sono queste persone? loro sono riusciti a calcolare che in 5.034 persone perché le hanno contate uno per uno la maggior parte erano quelli che facevano i corri razziali e per questo qua deve essere sospesa la curva sud della Juventus mentre negli altri stadi non succede e questo è vergognoso è vergognoso che ogni volta che succede qualcosa e di mezzo c'è la Juventus venga fuori un boom mediatico e si attivano le procure cioè non basta la Juventus che con le telecamere va a trovare le persone che hanno fatto questo illecito e le squalificano cioè non le fanno più entrare nello stadio addirittura addirittura devono intervenire pure e procure ma la cosa più vergognosa è che per quadrato vengono date tre giornate di squalifica e per Lukaku una e per Andanovic una cioè partecipano tutte e due a una rissa Andanovic e quadrato quadrato tre giornate Andanovic una è vergognoso quello che sta succedendo è vergognoso che negli ultimi sette gol dell'Inter segnati alla Juventus cinque sono stati dati su rigore è vergognoso che nessuno ne parli è vergognoso che ancora nessuno delle Iene nessuno di striscia notizia sia andato da qualche dirigente dell'Inter a dire ma come mai succedono queste cose qua invece si fa il contrario perché si vende di più ed è per questo che i tifosi della Juventus si stanno rompendo è per questo che il mio canale cresce perché tante più persone la pensano come la penso io sì è vero è un pochettino complicato da capirlo perché qualcuno comincia a pensare il solito piangina ma noi vediamo la realtà dei fatti e la commentiamo ed è uno schifo perché se la Juventus deve essere penalizzata e deve essere penalizzata per i corri razziali usata anche solo da un tifoso anche solo da uno tifoso questo serve per lezione a tutto lo stadio un tifoso che utilizza i corri razziali contro un altro giocatore di un'altra squadra e deve essere fermato tutto lo stadio però fermiamo tutti gli stadi non quello della Juventus tutti e non si gioca più a calcio si gioca senza spettatori e allora vi va bene ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti condividete il più possibile questo video facciamo sentire la nostra anche a tutto questo mondo interista che ci accusa solo noi quando loro sono i più porci che esistono in Serie A e lo vediamo anche tra la loro tifoseria detto questo io vi saluto se siete arrivati fino a qui siete dei super eroi non vi rimane che condividere questo video mettere un like e commentare perché è molto importante un saluto ciao a io